Mezz'ora poco più di buon calcio per la Valdinevole Montecatini che giovedì pomeriggio ha affrontato il Pisa nella prima amichevole stagionale. I termali di Mr. Marselli, che parteciperanno al prossimo campionato di eccellenza, nettamente inferiori da un punto di vista tecnico rispetto a nerazzurri neopromossi in Serie B e in evidente e comprensibile ritardo di preparazione, hanno comunque retto l'urto per un terzo di gara, facendo anche vedere delle belle cose. Poi però ai primi affondi dei Pisani, tre reti in sei minuti, dal 27esimo al 33esimo, i biancazzurri sono crollati anche da un punto di vista psicofisico, riuscendo tuttavia ad arrivare all'intervallo ancora sullo 0-3. Nella ripresa la stanchezza, la girandola di Cambi e i rincalzi della Valdinevole Montecatini non sono certo quelli del Pisa e la maggiore freschezza degli avversari hanno prodotto altre cinque reti di scarto. In totale il match, che si è giocato di fronte ad una buona cornice di pubblico, è finito 8-0. Al di là del risultato tuttavia, Falivena e compagni hanno fatto intravedere di essere sulla strada giusta. La formazione pisana, allenata da D'Angelo, rimarrà in Valdinevole, ma alla Palagina a mettere a punto il lavoro del precampionato. I termali utilizzeranno l'impianto Mariani in sintetico per proseguire negli allenamenti.